Fregolone alla carbonara di tonno Possiamo iniziare a mettere l'acqua Tonno fumicato Crancetto di tonno crudo che abbiamo comunque abbattuto Allora questo lo faremo un pochettino più fine e lo andremo a mettere sempre in mezzo Così abbiamo tre diversi tipi di consistenza di... Perfetto Siamo arrivati a cottura Tonno affumicato Tartarina Andremo a mettere il tonno che abbiamo precedentemente saltato dentro Amici ideale Seguiteci su YouTube per la ricetta completa Grazie a tutti